Assessore, in cosa consistono i lavori? Sì, è una messa in sicurezza tanto attesa e finalmente le ruspe sono in azione da qualche giorno presso il quartiere Borsacchio per la messa in sicurezza definitiva del torrente Borsacchio. Il primo intervento fu realizzato dalla loro aggiunta Catarra nel fine 2011, questo grazie ai finanziamenti della stessa aggiunta Catarra e della giunta Chiodi è stato finalmente realizzato e quindi prevederà un intervento che consiste nella messa in sicurezza degli argini sia al lato nord sia al lato sud col contestuale allargamento del torrente e quindi per consentire una maggior portata delle acque che scendono dalla collina e quindi è l'occasione finalmente per dare una maggior sicurezza all'intero quartiere. Spesso ci si ricorda tardi di queste iniziative, ci si ricorda non sia la giusta sensibilità, però la sicurezza idraulica del territorio è una nostra priorità e deve continuare ad esserla perché la sicurezza dei cittadini da questo punto di vista viene prima di ogni cosa.